si scrive q q o q hanno tutti lo stesso suono provate a leggere se non ci credete si scrive q quando dopo la u c'è una consonante ad esempio cubo cugino curioso oculista cucire cucina acustica acume si scrive q quando dopo la u c'è una vocale ad esempio liquido squadra liquame aquila 5 4 questo quello qui e qua quotidiano quota liquore eco obliquo quaziente ci sono però delle eccezioni cioè delle parole in cui anche se dopo la u c'è una vocale si scrive ugualmente q ad esempio cui circuito altri esempi scuola cuore cuoco cuoio innocuo promiscuo proficuo cospicuo cuocere scuotere percuotere ci sono anche parole capricciose che non seguono nessuna regola ad esempio so quadro con due q tacquino con due c si scrive cq con la parola acqua e tutti i suoi derivati acquazzone acquario risciacquare acquedotto acquolina acquitrino si scrive cq anche con il passato remoto di alcuni verbi ad esempio piacere piacque nascere nacque tacere tacque si scrive cq anche con acquistare acquisire e i loro derivati acquietarsi e acquattarsi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti